Tour elettorale in provincia di Teramo per l'On. Giovanni Donzelli, responsabile nazionale organizzazione di Fratelli d'Italia. La prima tappa della sua visita a Teramana è stata a Silvi, dove insieme ai senatori Sigismondi e Liris e al deputato Testa ha portato il suo contributo durante la presentazione della lista di Fratelli d'Italia che appoggerà Andrea Scordella. Una giornata entusiasmante perché per quanto noi possiamo provare a limitare siamo la forza della gente, delle piazze. Delle persone che vogliono il riscontro dei nostri visi, dei nostri abbracci, delle nostre strette di mano. E qua a Silvi, dove abbiamo una bellissima comunità guidata da Andrea Scordella, per quanto riguarda il centro-destra, abbiamo una bellissima comunità ai Fratelli d'Italia. Vogliamo fare la differenza in questa nuova legislatura, vincere a primo turno e dare forza a una coalizione che deve continuare a dare sviluppo a questa zona. non soltanto in chiave turistica, ma certamente accentuando quelle che sono le caratteristiche di una zona che appunto ha sia la parte del litorale sia la parte della collina, chiamiamola così. Onorevole Donzelli, doppia visita a Silvi Teramo per dare manforte ovviamente non solo a Fratelli d'Italia, ma a tutta la compagine di centro-destra. Sì, vogliamo fare bene, come stiamo facendo bene a livello nazionale, vogliamo fare bene nei nostri territori, ancora meglio a Silvi e bene anche finalmente a Teramo. Una regione che è molto ben guidata, abbiamo visto oggi la partenza del Giro Italia che sta facendo vedere la bellezza di questa regione a tutto il mondo. Andiamo avanti, rafforziamo ancora di più con la crescita dei Fratelli d'Italia e la buona amministrazione che c'è qui. Di seguito l'organicama al completo, capitanato dalla Presidente Provinciale Marilena Rossi, ha raggiunto i candidati del partito della Premier Meloni che correranno a fianco a Carlo Antonetti per lo scranno più alto del Consiglio Comunale della città capoluogo. Bagno di folla per Donzelli, accolto con applausi e con i classici selfie richiesti dai candidati e dai tanti ospiti presenti.